E' bellissimo, mi è piaciuto, sono stata molto attenta ad ascoltare tutto quello che è. Vedevo che rideva, ci siamo molto divertiti. Poi con Bucci Rosso comunque c'era da aspettarselo, insomma sono venuti un sacco di persone in più. Penso che questa è una scelta intelligente, che fanno tutti gli anni, che è un appuntamento gradito da noi, anche dagli abbonati, anche da chi non è abbonato, perché tutti gli anni è molto seguito. Voi seguite spesso comunque anche tutto il teatro? Siamo abbonati, siamo abbonati da quando è aperto il teatro, qui siamo stati tra i primi. Infatti veniamo sempre, veniamo anche quando magari c'è qualche spettacolo un po' pure diverso, però siamo degli abbonati, anche perché secondo me il territorio, anche queste cose vanno incoraggiate, un po' tutti dalla politica, da tutti vanno incoraggiate, perché noi siamo in un territorio dove non c'è niente, noi veniamo da Torri Orsaia, quindi abbiamo bisogno anche di uscire, soprattutto noi donne, abbiamo bisogno di uscire, di fare delle cose diverse e anche di incontrarci, perché è anche un modo per stare insieme ad altre persone e non stare isolati nei nostri paesi che distano 15-20 km, quindi queste cose ci vogliono e devono essere anche finanziate dagli endi, dalla regione, provincia, comune, perché queste cose ci vogliono nel territorio che ci fanno crescere, se non restiamo come siamo nati. Sì, facevamo un commento, la troviamo molto interessante perché crediamo che in qualche modo comunque riflette delle cose che hanno a che vedere con la realtà dei nostri piccoli paesi. Lei viene spesso a teatro? Sì, sì, io ho l'abbonamento e mi sono ritrovato in alcune battute, soprattutto per quanto riguarda il giornale del paese aggiornato, sì. È la prima volta che vede Bucci Rosso in particolare o l'ha visto già altre volte? No, di livello l'ho visto altre volte, l'ho visto a Palinuro, sì, è uno degli attori che mi piacciono, sì. Grazie. 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 Grazie.